La lettura di oggi vuole essere un tributo alla Lombardia, alle vittime lombarde e anche non lombarde del coronavirus, a tutti quei malati che se ne sono andati senza un saluto, senza un segno di affetto dai familiari e allora ho pensato, io che sono lombarda, di leggere un brano dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni in un tempo dove c'era la peste, un'altra terribile epidemia. Il pezzo è La madre di Cecilia. Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale, quella bellezza molle e un tempo maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata ma non cascante. Gli occhi non davan lacrime ma portavan segno da averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nove anni, morta, battuta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte con un vestito bianchissimo come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tempo e data per premio. Ne la teneva a giacere ma sorretta a sedere su un braccio col petto appoggiato al petto come se fosse stata viva, se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno della madre che se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia con una specie però di insolito rispetto con un'esitazione involontaria ma quella tirandosi indietro senza però mostrare sdegno né disprezzo no disse non me la toccate per ora devo metterla io su quel carro prendete così dicendo apri una mano fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese poi continuò promettetemi di non levarle un filo dintorno né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così. Il monatto si mise una mano al petto e poi tutto primuroso e quasi ossequioso più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa s'affacendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina da madre dato a questa un bacio in fronte la mise lì come su un letto ce l'accomodò le stese sopra un panno bianco e disse l'ultime parole addio Cecilia riposa in pace stasera verremo anche noi per restare sempre insieme prega intanto per noi che io pregherò per te e per gli altri. Poi voltandosi di nuovo al monatto voi disse passando di qui verso sera salirete a prendere anche me e non me sola. Così detto rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra tenendo in collo un'altra bambina più piccola viva ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne e sequie della prima finché il carro non si mosse finché lo potè vedere poi disparve. Applausi 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 Applausi